Ed eccoci a un nuovo tutorial sempre su Scratch legato alla rivista Scuola Italiana Moderna edita dalla casa editrice La Scuola. Vediamo uno dei più classici giochini che si realizzano in Scratch ma che riscuote sempre simpatia e divertimento, cioè il labirinto. Io ho realizzato un labirinto molto semplice proprio per cercare di capire quali sono le logiche che ci sono dietro poi naturalmente da questo piccolo esempio si può partire e abbellire il tutto sulla piattaforma di Scratch se ne trovano diversi, anche con più personaggi, con più oggetti. Intanto partiamo dagli elementi, allora io ho utilizzato il nostro gatto che è lo sprite principale di Scratch che ho ridotto ma poi andremo a vedere i blocchi poi ho creato due sprite con semplicemente un costume che c'è scritto hai vinto e l'altro invece con hai perso il tutto funziona con il tempo, quindi ho creato una variabile che si chiama tempo e abbiamo un minuto di tempo sostanzialmente per arrivare alla porta verde se arriviamo a toccare la porta verde appare lo sprite hai vinto altrimenti se non arriviamo nel tempo di un minuto alla porta comparirà hai perso altra cosa, se noi tocchiamo le pareti nere il nostro personaggio viene riportato alla posizione iniziale vi è poi l'altro elemento che è lo sfondo che ho disegnato usando l'editor interno di Scratch ho disegnato uno sfondo colorato e poi i vari passaggi cercando di mantenere più o meno la stessa distanza fra un passaggio e l'altro anche se qualcuno è un po' più stretto e qualcuno è un po' più largo quindi la dimensione poi dipende esattamente da dove dobbiamo, dal percorso come lo abbiamo realizzato se andiamo ad eseguire il tutto, premiamo sulla bandiera verde a questo punto vedete muovo il gatto si muove, sto premendo la freccia verso destra se per sbaglio io muovo la freccia verso in su ho toccato, vedete, lo rimuovo se tocco le pareti vengo riportato nella posizione iniziale prendiamo una strada sbagliata vado a toccare fino su, adesso io ho messo molto lento sto cercando di perdere apposta adesso cerchiamo di fare il percorso tutto vedete che sto premendo le frecce destra e sinistra ho volutamente messo una velocità molto lenta proprio per, anche pensando di un minuto perché se facciamo troppo veloce ma poi qui sta, naturalmente, ecco sto per perdere eccolo qua, hai perso qui ci sono alcuni bug da correggere dati dal fatto che, vedete che adesso il tempo è finito, in realtà riesco ad arrivare non essendo più il gioco attivo comunque il gattino si muove e qui eventualmente bisogna trovare delle soluzioni per, ad esempio, magari attraverso una variabile per controllare il fatto che il gioco sia attivo oppure no se io invece vado ok, fino in fondo rispettiamo i tempi proviamo a vincere senza andare a toccare ok, freccia su attenzione a non toccare la parete nera vedete con la velocità che ho impostato chiaramente il minuto ci serve tutto chiaramente poi quando adesso andremo a vedere i blocchi adesso tocco il verde e compare come funziona il meccanismo? è molto semplice allora premiamo la bandiera verde e si avviano due flussi il primo flusso riguarda proprio la prima sequenza riguarda proprio il gatto dove andiamo a mettere uno stile di rotazione sinistra-destra in modo tale che quando premiamo destra-sinistra vedete che il gatto si muove lo portiamo a una dimensione del 40% qui dovete fare un po' di test in base a come disegnate il vostro labirinto dovete vedere la dimensione la posizione iniziale qui basta semplicemente prendere il gattino o il personaggio che scegliete andare a vedere dove lo posizionate e di conseguenza poi andare a impostare la posizione X e Y e poi direzione 90 punta di direzione 90 il gatto punta verso destra poi c'è un ciclo per sempre con due condizioni nella prima condizione andiamo a verificare che se tocchiamo il nero attenzione sfumature e quant'altro meglio che non ce ne siano se tocco il nero vengo riportato nella posizione iniziale vedete questa era la posizione iniziale vengo riportato nella posizione iniziale se invece tocco il verde quindi il mio arrivo invio tutti vinto poi vediamo come cosa succede e poi fermo tutto nell'altra parte la seconda sequenza è quando premo la bandiera verde cosa succede abbiamo il portatempo quindi portiamo la variabile a 60 assegniamo la variabile il valore 60 e poi un solito giochino del se il tempo è maggiore se la variabile tempo è maggiore di 0 allora attendo un secondo e cambio la variabile di meno 1 in modo tale da fare questo contatore che non è chiaramente un orologio atomico con la precisione massima ma perlomeno riusciamo a simulare in maniera molto ma molto semplice senza fare calcoli particolari il un countdown quindi un controllo rovescio anche qui se invece il tempo quando arrivo a 0 cosa succede? invio tutti perso e fermo tutto ok qui abbiamo le frecce per far muovere ok vedete premo la freccia di destra ok vedete che si illumina si illumina nei blocchi punto in direzione 90 e cambio x di 3 se premo la freccia verso sinistra invece si gira verso sinistra quindi punto in direzione meno 90 e cambia x di meno 3 quindi mi muovo sull'asse x di più 3 verso destra e meno 3 verso sinistra con invece la freccia su e la freccia giù vado a cambiare i valori in y con la freccia su mi sposto di 3 punti ok sull'asse y e con la freccia giù invece di meno 3 sempre sull'asse y se vado a toccare il verde cosa succede? invia tutti vinto se invece scade il tempo invia tutti perso chi è che riceve questo comando gli altri due sprite lo sprite faccio uno zoom così vedete meglio lo sprite hai vinto ha quando premo la bandiera verde si nasconde adesso hai vinto se io premo la bandiera verde vedete che si nasconde e se invece riceve vinto viene mostrato quindi quando vado a toccare la porta il traguardo verde viene mostrato lo sprite hai vinto stessa cosa per hai perso bandiera verde viene nascosto lo sprite se riceve il comando perso viene mostrato e quindi quando perdiamo e quando scade il tempo appare perso ecco è uno script molto ma molto semplice non ha tantissimi blocchi tuttavia è interessante perché ci sono molte delle logiche di programmazione che si usano nei giochi base di scratch da qui in poi in realtà si possono aggiungere un sacco di cose e vi invito a farlo oggetti che scendono oggetti che appaiono che possono ostacolare cose che si possono prendere per aumentare i punti insomma ci sono tutta una serie questo è solo un piccolo primo step dal quale poter partire e realizzare un proprio labirinto magari anche multilivello non mi mi Grazie.